Il passaggio. Avventura parigina senza amore. Retti sul marciapiede del lungo Senna, raccolti intorno a un fornello portatile sul quale una pentola bolliva, sei poveri diavoli vuotavano a cucchiaiate frettolose ognuno una ciotola di zuppa. Finita la prima porzione, tesero le tazze al venditore di minestra che le riempì contando tre mescolate a ciascuno. Mangiavano con punti e levarono gli occhi soltanto per fissare, irritati, un signore alto ed elegante fermatosi a guardarli. Colpito dai loro sguardi torbidi che gli rimproveravano il suo dilettantismo di uomo ben sazio, intento ad osservare per curiosità il triste pasto degli straccioni, il signore si allontanò. Soffriva la fame da otto giorni, gli rimanevano in tasca dieci soldi e aveva temuto che una tazza di minestra potesse costare di più. Camminò piano piano, sentendosi pungere più fastidiosamente dal freddo della sera invernale, perché s'era illuso di riscaldarsi col brodo fumante e ora ne avvertiva la privazione. Camminava piano, piano, avvilito e stanco, ma teneva alta la testa. Il nome che egli portava, Barone Alessandro Viti, aveva brillato per vent'anni a Roma nella piccola gloria della mondanità. A trentasei anni, un duello con un principe Babianschi, seguito dal divorzio fra il signore polacco e la sua bella moglie, aveva consacrata la fama amorosa del gentiluomo italiano. Poi, coi capelli grigi, era venuto il decadimento. I resti del suo patrimonio, decimato da una pessima amministrazione e da una prodigalità senza freni, erano scomparsi nel fallimento di una società edilizia. Lasciata l'Italia, si era stabilito a Parigi, dove vendendo i gioielli ereditati dalla madre e da una zia, aveva vissuto cinque anni in strettissima economia, prima in un piccolo albergo in via de Sèze, poi in una camera mobiliata del quartiere latino. Giunto all'estremo delle sue risorse, aveva incominciato a vendere gli abiti. Spendeva quattordici soldi al giorno per non restare digiuno. La rigida signorilità del suo aspetto faceva sì che nessuno indovinasse la sua miseria e osasse offrirgli lavoro. Chiedere? Come chiedere? Gli ne mancava la possibilità fisica. La sua voce non sapeva trovare le inflessioni adatte alle richieste servili, così come la sua mano non sapeva tendersi a elemosinare. Percorso un tratto del lungo senno, imboccò il ponte della Concordia. Qualche passante si voltava a guardare la sua figura alta, vestita di un sopravvito color verde bottiglia, che era stato di moda vent'anni prima, aderente al torso e quadrato di spalle. Egli si sentiva confitto nelle tempi e stanche il pensiero rodente del domani, e in vano cercava di disperderlo un poco, lasciando vagare lo sguardo nel barbaglio luminoso di piazza della Concordia e di Rio Royale. Quantunque era segnato ad ogni rinuncia d'orgoglio, non sapeva immaginare se stesso nell'atto di compiere per la prima volta i gesti e le parole che l'avrebbero fatto scendere da una classe in un'altra, trasformandolo in un servo. Invocava, come si invoca la fortuna, un'occasione che lo costringesse a subire questo passaggio, ma non si sentiva la forza di strappare a se stesso, per volontà propria, il primo atto umiliante. Aveva 49 anni, troppo vecchio per ricominciare la vita, troppo giovane ancora per sentirsi finito. Soltanto la sera, quando fra l'ora del pranzo e quella del teatro, il boulevard parigino si gonfiava di strepiti e di luci e gli usciva di casa. Un bisogno di dimenticare il presente, rivivendo con blanda miserabilità il passato, lo tratteneva davanti agli atri dei teatri, degli alberghi e dei ristoranti di lusso, mullinelli di eleganze, di bagliori, di profumi e di musiche. Si fermò quella sera davanti all'ingresso del più vasto albergo parigino, a pochi passi da Piazza dell'Operà. L'albergo aveva due entrature, questa sul boulevard, l'altra su via Scrib. Un fiotto di gente vi entrava e ne usciva, di qua e di là, inghiottito ed espulso dalle porte a tamburo. Egli entrò. Nella hall centrale l'orchestra americana strepitava. La musica vibrava, così scintillante e luminosa che pareva gli specchi dovessero rifletterla. Poi l'orchestra tacque. Sul chiacchierio volubile delle donne si udì il ronzio uguale degli ascensori. L'andirivieni di quelli che entravano, uscivano, salivano e scendevano non davano rumore sui tappeti. Alessandro Viti, compiuto il giro intorno alla hall, si avviò lentamente verso l'uscita principale che si apriva su via Scrib. Il vestibolo era affollatissimo, gentiluomini in cravata bianca e belle dammi in pelliccia. I settori delle due porte girevoli suddividevano il fiotto umano in tante coppie, spesso formate di un uomo e di una donna che non si erano mai veduti e che durante qualche attimo si toccavano e si respiravano in un vortice di luce. Per alcuni secondi, Alessandro Viti si trovò chiuso nello spicchio di cristallo insieme con una giovane straniera. Capelli corti, profilo netto e scioltezza sportiva, americana senza dubbio. Teneva la pelliccia aperta e rovesciata indietro cosicché le sue spalle si offrivano nude. Un profumo violentissimo esalava dalla sua pelle e dai suoi abiti. Non si volse a guardare l'uomo che le camminava dietro toccandole il dorso col petto soltanto quando uscì nel latrio, essendosi egli tratto in disparte con un riguardoso inchino mentre ella si fermava ad attendere qualcuno, lo sfiorò con un'occhiata. Ma lo sguardo scivola su di lui disattento. L'atrio era tumultuoso come se la strada deviando l'attraversasse. Le automobili entravano da una parte e ne uscivano dall'altra con un gran rullare di motori scandito dai colpi secchi degli sportelli richiusi. Una turba di inservienti si frammischiava alla folla elegante offrendo i propri servigi. Fattorini, bagaglieri, ciceroni, interpreti. Vacillando sulle gambe fiacche, Alessandro Viti scese la scalinata ma sull'ultimo gradino dovette arrestarsi perché un'automobile entrata rombando da sinistra era venuta a fermarsi davanti a lui. Si volse un poco indietro per scusarsi con quelli che il suo brusco movimento aveva urtati e vide la giovane americana di poc'anzi faccia a faccia, gote incipriate e bocca scarlatta. Ne riconobbe nel ventesimo istante la fisionomia moderna e il profumo acutissimo. Ella lo fissò con uno sguardo freddo e imperativo. Allora, poiché nessun inserviente si avanzava, Alessandro Viti afferrò la maniglia dello sportello e aprì inchinandosi. La giovane donna montò sulla macchina e una signora anziana la seguì. Poi, una mano inguantata di bianco si sporse dall'automobile verso il gentiluomo che protese la sua stupito e felice ma la mano femminile si ritrasse prima che egli potesse stringerla. Lo scioffer gli gridò «Chiudete dunque!» Chiuse lo sportello. La vettura partì. Egli rimase fermo sul gradino serrando convulsalmente dentro il pugno una moneta. Una vampata gli salì alla fronte ma nel cristallo di un'altra automobile venuta a fermarglisi davanti egli vide specchiato il proprio volto. Livido. Cacciò la moneta in tasca senza guardarla e aprì lo sportello inchinandosi a una coppia di biondi sposi o amanti stranieri. Il giovanotto in frac prima di salire gli è porse una moneta da un franco e gli chiuse lo sportello. Una terza macchina sostituì la seconda partita. Egli aprì si inchinò richiuse e questa volta la sua mano era stata più pronta a tendersi verso la mancia offerta. Altre vetture si susseguirono tre a tre quattro a quattro in una tumultuosa giostra di fragori e di luci che gli faceva mulinare il cervello svigorito dal digiuno. Come un tempo egli si inchinava alle belle dame eleganti. Come un tempo egli tendeva la mano verso la loro mano offerta. Maledite inguantate si ritraevano senza neppure toccare le sue. Gli sguardi scivolavano sulla sua persona come sopra un oggetto. Il fulgore della bellezza e del lusso lo sfiorava effimero e svaniva in uno sbuffo di profumo. Il carosello delle automobili ruotava e rombava battuto dalla luce degli archi elettrici fra l'atrio e la strada. Egli apriva tendeva la mano chiudeva lo sportello travedeva la propria immagine specchiata nella lucentezza dei cristalli e delle vernici e poi quando la macchina partiva soffiata via con non curanza. I suoi gesti scattavano eguali e meccanici disumani come quelli di una marionetta. Due grossi signori occupati a discutere fra di loro salirono sull'automobile senza degnare di un'occhiata il servo che teneva aperto lo sportello. Egli esitò chiuse. Nessuna mano gli si era tesa questa volta. Alessandro Vitti si accorse con una fiammata di vergogna alla fronte di aver abbozzato in vano il gesto che chiedeva alla mancia. Guardò la propria mano vuota uscì dall'atrio traballando sui ginocchi molli e se non ci fosse stata troppa luce in via Scrib avrebbe pianto come un ragazzo. Camminò vedendo come in un sogno la luminaria multicolore del boulevard ansioso di ritrovare di là della Senna un poco di tranquilla semioscurità. Passato il ponte della Concordia voltò a destra e si fermò stanco appoggiandosi al parabetto del lungo Senna. Guardò l'acqua laggiù e debba paura di sentirse in attratto per un bisogno cieco di annegarvi la vergogna del proprio estremo decadimento. Ma il suo sguardo vagò sullo specchio del fiume senza trovarvi vertigini di morte. In attesa una quieta consolazione gli toccava l'anima. Egli voleva sentirse ne sdegnato e per pudore fingeva difendersene mentre il suo cuore l'accoglieva con ingenua riconoscenza. Si ripiegò su se stesso vergognoso di sentirsi così sfibrato d'ogni orgoglio così servilmente rassegnato e la sua attenzione senza esitare sorpassò lo stato d'animo per fermarsi sopra un appetito fisico. Aveva fame. Trasse di tasca una manciata di monete e le contò quattordici franchi. Allora si incamminò di nuovo in direzione della torre Eiffel. Trovò poco lontano un ristorante economico. Seduto a un tavolo del quale avvertiva il gelo marmoreo attraverso la tovaglia mangiò sentendo via via che la fame si calmava a ritornargli la forza di considerare se stesso. Si rivedeva nell'atrio del grande albergo stordito dal rumore e dalla luce fiaccato dalla fame e dalla vergogna aprire e chiudere gli sportelli inchinarsi e tendere la mano coi gesti pronti di un vero servitore. Nessuno aveva sospettato che egli compiesse per la prima volta vergognandosene la bisogna servile. A nessuno di quelli che gli avevano offerto la mancia era neppur balenato il dubbio di poterlo offendere. Quando appena uscito dalla porta girevole si era inchinato alla giovane americana per scusarsi di averle premuto le spalle col petto lo sguardo di lei lo aveva appena sfiorato scambiandolo per un inserviente. Egli si rivedeva là quasi con gli occhi di un altro vestito del sopravvito color verde bottiglia serrato al torse quadrato di spalle che era stato di moda vent'anni prima ma che oggi somigliava troppo alla livrea di un fattorino d'albergo. Rivedeva i propri inchini riguardosi che erano stati di perfetto stile elegante al tempo della sua giovinezza ma che oggi troppo rassomigliavano all'osseguio professionale della gente remunerata. I nuovi tempi marcati da uno stile sportivo un poco brutale volevano linee sciolte negli abiti e veloci cortesie da camerati negli usi mondani. L'ingombrante bagaglio della vecchia gentilezza cerimoniosa era stato passato dai nuovi signori e i loro valletti. gli servitori della nuova generazione portavano i vestiti e usavano la maniera dei gentiluomini della generazione passata. Era bastato a lui dunque di rimanersene in disparte perché la marea dei tempi nuovi lo sommergesse e perché il suo destino si compisse silenziosamente sino in fondo. quel passaggio dalla classe dei signori a quella dei servi che egli aveva temuto figurandoselo come una lacerazione improvvisa e brutale si era invece operato a sua insaputa giorno per giorno ora per ora. Lo stile della vita sociale era tanto mutato che egli rimanendo uguale a se stesso aveva assunto agli occhi dei nuovi signori l'aspetto tipico di un servo. Il suo soprabito più elegante era divenuto una perfetta livrea. Assorto mangiava curvo sulla tavola come fanno i poveri la donna che lo serviva ponendogli davanti un piatto di frutta cotta gli disse era fredda a quest'ora ma l'ho fatta scaldare apposta e confidenzialmente sottovoce ve ne ho dato una porzione doppia egli levò il capo e la fissò tra irritato e commosso ella poteva avere quarant'anni la sua faccia era gentile ma sueta sotto lo sguardo un poco freddo e distante di lui chinò gli occhi in quel lato in un suo incerto abbandonare le mani sui fianchi egli intuì una delicata timidezza la fissò ancora per qualche istante e disse grazie quando fu sul punto di uscire mentre lo aiutava a indossare il soprabito e la chiese lavorate sempre fino a tardi la sera? sì tornerete qui domani? forse non so vi preparerò il tavolo vicino alla stufa buonanotte buonanotte si avviò lentamente verso il quartiere latino teneva la testa un poco curva cercava in vano un pensiero che delineasse e giudicasse la sua nuova condizione e si stupiva e non avrebbe saputo dire se ne era felice oppure scontento di sentirsi adagiato in un riposante equilibrio interiore senza dolore e senza piacere con una grigia ma ferma pacatezza come sempre egli fosse stato ciò che era divenuto un povero diavolo per il quale la vita aveva ancora una qualche dolcezza